Il presidente della regione toscana Enrico Rossi e l'assessore regionale alla salute Stefania Saccardi hanno inaugurato la nuova sede del servizio di anatomia patologica dell'ospedale di Careggio a Firenze fra le maggiori strutture in Italia e ai massimi livelli internazionali per la diagnosi del melanoma con oltre 38.000 esami istopatologici all'anno. Attrezzature all'avanguardia che dal pezzo operatorio permettono di realizzare i vetrini e infine di ingrandire ad altissima definizione le parti analizzate. È già un reparto che riesce ad avere per quanto riguarda i tempi d'attesa importantissimi sulle biopsie tempi che stanno nei tempi normali di una settimana, dieci giorni anche a seconda della complessità. Quindi noi abbiamo investito 4 milioni e mezzo per garantire che si possa fare ancora meglio e che i cittadini abbiano al meglio le risposte ai loro esami. All'interno del reparto lavorano 16 dirigenti medici, 10 specializzandi, 2 biologi, 23 tecnici di laboratorio, 4 infermieri, 3 amministrativi e 6 operatori di supporto. I nuovi laboratori, realizzati con un investimento strutturale di 2 milioni e 150 mila euro nel 2019, sono un centro di riferimento per le second opinion, cioè le rivalutazioni su esami già effettuati per confermare la prima diagnosi di tumore, funzioni fondamentali. Funzioni che sono importantissime, magari meno visibili rispetto ad altri, ma sono importantissime e fondamentali soprattutto nel periodo in cui si sta andando verso la medicina di precisione. Quindi là dove è sempre più importante andare a verificare la particolarità, il singolo caso specifico proprio per aggiustare e per determinare la migliore terapia possibile in quel caso. I laboratori si trovano nell'edificio 27B di Careggi, detto Cubo 3, con accesso dal Viale Pieraccini.